Il giorno dove era più bello! Carosello, faccio! Atleti! Atleti! Atleti gode in Madrid! Carosello! Sto godendo! Sto godendo ancora! Vergogna di farò! La squadra è ingiocabile! La squadra è illegale! La squadra è stratosferica! Sto godendo, signore, non mi capite! Signore, signore, mi saluto! L'Italia è felice! Guarda che giorno bello! Il giorno dopo è ancora più bello! È ancora più bello il giorno dopo! Atleti! Atleti! Atleti con te in Madrid! Atleti! Atleti! Atleti con te in Madrid! Lall'Italia! Atleti! Atleti! fammi fermare fermati 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 se non mi arrestano mi arrestano interista mi arrestano mi arrestano mi arrestano ma no sto godendo il giorno guarda guarda la luce guarda non è la luna aspetta la pallone aspetta dai su marte no sull'uno non è su saturno su pluton non è interista ma vedi qua interista che c'è sulle vabbè il sole e baci i più belli interista guarda turisti faceva carosello te l'ho detto che faceva carosello interista come erano le mutande delle cacce di ricorda guarda le mutande tutte bagnate tutte cacate sono dell'atletico atletico 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 del mare marone l'altro che caccio mi baciava mia bella è profumo di daish e coccolino ho fatto la babba per scritto ho fatto la babba per scritto aspetta che aspetta per scritto cosa siamo questa guarda 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 e eut e parfum guarda guarda ma le paremo io io te mai io te mai uso io te mai la babba la babba aspetta c'è una logo più forte mi devo profumare mi devo profumare sono bello pulito aria pulita a vedi vedi l'italia allora grazie atletico matri grazie 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 l'italia intera è felice il sole spuntato dopo le tenebre veramente veramente ragazzi te l'ho detto voi vi bombardano vi bombardano ho avuto ragione per l'ennesima volta ricapitolando lucazzo ma è stato top play e per te la top play io da parte mia dico sempre così fiscale è scasso anche io vendine pure no è fattissimo quindi questa è la mia vittoria solo io nel web a dire in zaga l'aleatore stupo ha valutato e pechino la chatam si oh come gioca questa inter con una macchina perfetta ma quanti ma quanti quanti depressi quanti incompetenti di pallone quanti incompetenti di pallone e io me ne vado io me ne vado io me ne vado avanti che devi dire avanti che devi dire allora ma se stai che un ossessionato tu hai fatto le stesse cose ancora peggio guarda ora vi capisco perché quando io per dire finale soffrire tu stavi lì a godere che pittivi con la bbisceva pittivi con monza pittivi con gomo pittivi con novara pittivi con lembolino con il materazzo un rino passaggio pittivi con catania 3 a 0 ma che cazzo dici fai cura di merda capito finisti con la bbisceva pura stanzi ma che cazzo si tu guarda ripeto scendi dalla luna ah no no eh va a piglia palla va va a prendi la palla scendi anche i gufi i gufi stanno dormendo ora ma l'hanno il gufaggio ieri scendi dalla luna non siete nessuno vi hanno bombardato capito la taro di mbappé c'è una loma con tonicross squadra illegale squadra invincibile ingiocabili una macchina perfetta vado in italia solo in italia puoi fare queste cose che ti ho detto io perché il campionato è mediocre capito tu stai facendo il stesso campionato praticamente oggi che vince verso anni e anni fa ma pure che non aveva nascosto squadra fortissima anche napoletane ci pare che andare in finale da un lumini torneo che hanno fatto e poi alla fine venisci con milan e voi ma voi uscite con il papa si rivandavano l'anno scorso io invece questa squadra di merda l'ho battuta è bastato una ripetta di ronald a farla remontata che godura guarda e tu stavi la stavi quando messo la 2 a 0 la tutta la 3 di copartì a 3 di copartì a 3 di copartì e poi ronald ci vince a rimontata ronald è alieno non la tono mattine si si aspettava la tono mattine mamma mia abbiamo capito che nelle parti decisivi anche questo pure ma 10 minuti all'anno è alla spara la o veramente a a fernazza liquore la ma che cazzo dice comunque detto questo si gode il giorno dopo si gode vi hanno un po guardato sempre in questo canale al di là che tu dici avessi giuventino non è così non è così perché io ho detto sempre in italia siete forti gravina ma che cazzo dice 12 sono rubati perché la verità tra me e vero un genio 17 punti cioè dai 5 o 6 punti avanti siete ripeto però in italia siete forti perché giustamente avevo un genocambo più forte degli altri un attaccante più forte degli altri una difesa più forte della verità è questa però appena vai fuori in Europa ti ho detto tu uscirai appena incontrerai una squadra io sono stato il primo nel web a dire che tu uscirai guarda ho detto che tu uscirai poi ci sono i video va vede i video tu uscirai appena incontrerai una squadra che vi palleggia uscirai non pensavo onestamente ero convinto guarda ho detto onestamente riammariddi uscirai omariddi uscirai l'arsia vi butterà fuori come sentivo dire dai media no ma siamo tra i primi tre più forti d'Europa ma che cazzo dice voi siete tra i primi forse i primi reci fu i fotti d'Europa ma c'ho balle per così che i più fotti d'Europa un live per i fotti d'Europa ma che cazzo dici ma quando mai guarda c'hai i primi i geni c'hai i primi quattro ma che vi hanno bombardato sempre perché in Italia fai un spetto fanno i spetti in Italia che un campionato è mediocre e appena sei uscito fuori te l'ho detto sempre ve l'ho detto se ho avuto ragione io sono editore io sono editore vado a vedere i commenti vado a vedere tutti i commenti che dite andiamo in finale perché chi vuoi ci speravano andare in finale siete usciti come 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 così come le merda siete usciti mamma mia il giorno dopo si go ma come 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 si go ma vabbè ma l'inter ha avuto l'occasione anche ieri ho sentito che c'è no ma l'inter ma se l'inter l'occasione non le fa se tu ram e se tu fris mingga ma non ma che cazzo ma che vede ma voi vede solo solo l'inter vedete dovete guardare l'altre comandate vi ha dominato l'altre comandate si mangiava tre quattro gol fatte ma chi ma chi ma chi mi ha visto un sommo quando parate che ha fatto un coso tiro di di cosa di glisman che no glisman glisman poi l'altro la cosa si chiama la lino lino comunque a j uvendus finisco il mio video a j uvendus tv la su forever gli amici miei la lino uvendus ha detto che lino uvendus dunque leone bianconera ha detto che usciva l'uva 1 ha detto uno dei primi ha detto uscirete 3 a 1 poi c'è la jessica che la saluta ha detto due a 1 avevano ragione loro più competente di me più competente di me e che onestamente mi sono detto ma ma chissà non culo e quando iscrivetevi c'è il canale delle amici leone bianconero lino uvendus c'è anche la jessica uvendus j forever grande uvendus j forever ma quanto popolo ha chilo l'avsco quando cazzate che ha detto come io vorrei essere interista forzai non lo dici forzai come non lo dici forzai per go chiudi il canale pagliaccio uno dei più pagliacci youtube uvendus che pagliaccio quello là guardi per i uvendus stanno godendo sai perché godono perché questi hanno goduto come i maiali quando noi perdiamo la finale capito io non sembra subire capito e il calma ritorna il calma ritorna ma qua non è che c'è calma oltre calma qua c'è l'intelligenza di barriva che ha giocato a calcio vi hanno bombardato vuoi essere una squadra diciamo forte in italia ma mediocre in europa che ho detto è sufficiente ma non dico mediocre sufficiente dai sufficiente tra i primi dici tu chissi tu che cosa ma tutti i barriva questi si sembrava che facevano la finale cemia ascoltami e su un'era e su un'era semifinale finale e la semifinale ma io ti volevo in finale pd capito ma ieri ragazzi il primo tempo ci spaccao culo nel palleggio cosa occasioni cose chi si incontrava di marco come fai di marco come fai di marco come fai di marco ma faccia ma faccia di marco così si sentevano padroni del mondo questi e scendete dal peristallo scendete dalla luna scendete dalle galassie non siete nessuno bene il giorno dopo finisce il mio video sto godendo parlando un secondo di calcio secondo me secondo la mia opinione l'inde se l'è mangiata all'andata la qualificazione perché l'ha andata un effetto avuto tre e quattro occasioni ma l'atletico madridi sempre così ma se l'atletico madridi gioca a calcio alla fine che è super per me leggermente più forte dell'inde leggermente più forte dell'inde l'atletico madridi aspetta avete perso con la scuola con la squadra nella storia più scarsa più scarsa della tebola la storia dell'atletico madridi non è questa che noi abbiamo battuto l'atletico madridi fortissimo che cazzo dici guarda e poi e poi e poi giustamente era un'atletico madridi in crisi quarto della liga capito aveva perso con cosa con cattici con l'almera con i civili ma tutti stavano a perdere ma che cazzo ma che cazzo stavano a perdere e per questo ha fatto figuracce per questo ha fatto figuracce e ora chiedevi scusa chiedevi scusa chiedevi scusa chiedevi scusa non capisce di pallone ma chiedevi scusa chiedevi scusa mi devi chiede scusa ora perché c'è in bar ha capito che non c'è fatto il si juventino pure la juventino io credo quando fa la squadra scarsa come tanti juventino dicono no ma allegri è male se le va allegri vince ma che vinciamo chi c'ha centro camo di merda si lo cade le miretti e c'ho anche ragione là oltre allegri eppure che la juventino è una squadra mediocre va bene e l'inter fotte in italia oltre la juventino ma è fotte in italia scarsa e non lo scarsa sufficiente non lo voglio cosa tu ci fai squadra medio ma ma ci sono squadre ci sono 7 8 squadre più fotte di voi ma che cazzo dici e la ripeto un misero atletico madrid vi ha ridimensionato vi ha ridimensionato zitto e basta no no per i coglioni ho avuto ragione io sì o no ho avuto ragione io sì o no atleti atleti godermati sto godendo ma non sto godendo bello la babba la babba la babba la babba questo super vivendino anche nel web perché chi si ascrive al mio canale capito cioè tu sei antipatico come quando invece non ripetendo tu non sei antipatico come come non sei antipatico che brucia ti brucia la sconfitta ecco fa male questa sì che fa male perché ripeto via tu tifosi parocchio ma mi hanno i media giornalisti la inza inza che hanno la sua valutata e ripeto avete giocato ripeto vincete in italia perché come te mi dico i giornalisti vi hanno super bombardato siete una squadra praticamente normale in europa capito normale e comunque posso dire una cosa finisco il mio video che sto godendo troppo occhio ho fatto un altro film fa me stasera in giro un altro film lo chiamo la taro la taro lo chiamo capito ah minchia ragazzi sto godendo la faccia di chi si interviste ma come sto godendo ripeto finisco il mio video e ora puoi vincere la seconda stella compa io guarda sai cos'è io ho gufato in gemmio perché a me quello mi interessava anche se vince la seconda stella vince un camminato mediocre che non c'è nessuno cioè appunto su 108 partite spiega perché questo due partite perché perché in camminato è un camminato mediocre usa solo la faccia partita della vita e poi stai vincendo stai facendo un camminato a sé praticamente ma quanto può durare boh stanno baco faccio un aprile baco queste cose succedono una volta nella storia infatti la seconda stella quando e io l'ultima stella l'ho presa 40 anni fa io c'ho 38 scudetti capito 40 anni fa che ha spunto ma io vendino guarda che diciamo una volta dove siete per scudetti dove siete per scudetti da sotto siete da sotto siete per scudetti dove siete guarda guarda a chi vuoi spottare il tuo cugino milanista stavendo di coloro rosegherato tu metti su una stella e chi ne hanno 19 solo il milanista ho capito poi napoletano tutto l'altro l'ho giuventino no stracote 38 scudetti davanti 38 scudetti che carose cari carose cari sono usciti dopo di fogna stai parlando tu 9 scudetti con secondi stai parlando tu stai zitto stai zitto stai zitto la squadra gioca meglio la squadra di murini è più forte di murini ma quando ne ho sentiti che tifosi che parocchi che siete sto godendo la sborra esce pure da tutte le parti della sborra